40 domande divise per settori che hanno indagato sul tema del lavoro, sulle abitudini e il rapporto con il territorio, la propensione migratoria e il capitale sociale e su cosa vorrebbero i giovani. La Caritas a Diocesana di Fano Fossombrone Caglipergole in collaborazione con l'ufficio catechistico e la pastorale giovanile ha illustrato i primi dati emersi da una ricerca che fa parte del progetto Costruttori di Ponti e di Speranze. Lo studio è stato realizzato lo scorso anno grazie alla collaborazione con due ricercatori universitari che hanno messo a punto un questionario relativo ai bisogni dei ragazzi tra i 14 e i 35 anni. Dal 13 luglio fino ai primi di settembre sono pervenute 992 risposte, di cui 416 complete e utilizzabili. In circa 90 poi hanno dato la disponibilità ad essere contattati per le fasi successive. Emerge innanzitutto il loro bisogno di coinvolgimento, loro richiedono a gran voce, proprio su cosa puntare lo rispondono, coinvolgimento e opportunità lavorative. Questi sono i due cavalli di battaglia che sono emerse da questionario. Altre cose che emergono è il bisogno che vengano creati degli spazi in cui esprimere le proprie passioni ma anche nei quali essere ascoltati. Inoltre quasi la metà dei giovani ha uno status socio-economico inferiore a quello della famiglia di origine e la percentuale di precariato rimane alta anche dopo i 30 anni. La mancanza di un lavoro stabile e in linea con i propri interessi è tra i motivi che spingono i giovani a migrare all'estero insieme alla mancanza di occasioni di svago e socialità. Anche il Covid ha influito su questo? Sì, certamente. A seguito della pandemia i giovani si dichiarano con un forte bisogno psicologico ma anche la salute fisica sembra aver avuto un rallentamento a causa della pandemia. Prima dell'estate verrà pubblicato un report approfondito. Nel frattempo è iniziata un'attività di coinvolgimento sia in presenza che online. Il primo appuntamento si è svolto il 17 febbraio scorso e sono stati una quindicina. I giovani che hanno dato pareri e suggerimenti in vista dei risultati della ricerca. Invece oggi a portare la sua testimonianza è stata Giulia, 25enne di Forlì, legata al nostro territorio in particolare grazie al percorso di studi universitari nella città di Urbino. La libertà e partecipazione ha ricordato Giulia tra coloro che hanno compilato il questionario. I giovani hanno tante risorse, ha detto. Bisogna fare in modo che vengano coinvolti anche per uno scambio di idee. Il servizio è lavorare insieme per il bene comune, ha aggiunto il direttore della Caritas Ettore Fusaro, che si è detto emozionato e imbarazzato nell'ascoltare le risposte date dai ragazzi. L'intento è quello di costruire un cammino di comunione con le istituzioni come le diocesi. Grazie a Caritas è stato fatto un lavoro di ascolto veramente approfondito, serio, grazie anche al contributo dell'Università di Urbino. È proprio bello mettere insieme tante competenze perché i giovani sono di tutti. Non ci sono i giovani che incontriamo come Chiesa, quelli che incontrano l'Università e quelli per cui devono interessarsi anche le politiche giovanili. Il bello di questo lavoro adesso è mettere insieme i dati e pensare insieme al loro bene. L'abbiamo ascoltato davvero, loro stessi si sono resi disponibili per costruire insieme questo percorso e il bello inizia proprio adesso. Quindi metterete in rete il lavoro? Sicuramente sì, già è iniziato il lavoro perché gli ambiti territoriali e sociali nel chiamare in causa un po' tutti nello scrivere il piano sociale hanno chiamato anche la Chiesa di Cesana, la Caritas, la pastoria giovanile. Questo è un dialogo molto bello e quindi è un tempo propizio insomma dove l'obiettivo è sempre quello di servire, ascoltare, accompagnare i giovani in questa fase così delicata della loro storia.